Più di vent'anni dopo ha un nome il cadavere ripescato in mare nel luglio del 1998 a largo dell'isola di Capraia, a Livorno. L'indizio su cui si lavorò per anni, ovvero la fede nuziale che indossava il dito con inciso il nome di Caterina, proprio in queste ore a Livorno ha fatto sì che il corpo di quell'uomo fosse fidelmente identificato. Si tratta di un croato che all'epoca della morte aveva 34 anni, Zlato Braico il suo nome, scomparso da Bol, città dell'isola di Brac sulla costa d'Almata. Il suo definitivo riconoscimento si deve soprattutto alla pervicacia con la quale il commissario Ilario Sartori della Polmare di Livorno, da tre anni ormai in pensione, ha continuato a scavare per cercare indizi utili a chiudere definitivamente il caso. L'indizio finale per le sue risposte nella foto di uno scomparso croato pubblicata su un sito inglese, recentemente aperto e mai consultato dalla polizia italiana. Il resto è storia di queste ore con l'identificazione certa del cadavere da vent'anni al cimitero dei lupi a Livorno e che oggi potrà tornare in patria.